Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Genova un chilometro di coda tra Pisa Centro e il Bibio per Viareggio. Sulla Fibili per incidente un chilometro di coda tra Ponte della Est e Ponte della Ovest e Ponsacco in direzione Mare. La statale 223 di Paganico è chiusa per un chilometro e mezzo in direzione Grosseto all'altezza di Campagnatico per uno smottamento. Ricordiamo inoltre la chiusura di molte delle strade provinciali in Alto Mugello a causa di frane. Per quanto riguarda i treni ricordiamo che la circolazione tra Marradi e Faenza è sospesa a causa dei danni provocati dal maltempo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.